Se oggi avete voglia di fare un piatto goloso e anche molto facile, questa è la ricetta che dovete vedere fino alla fine perché ho fatto una sorta di gâteau con patate e cavolfiore, super goloso. Allora avevo delle patate da smaltire, infatti sono durissime da schiacciare, se le avete calde anche meglio e insieme alle patate ho schiacciato anche del cavolfiore che avevo appena fatto, avevo fatto la pasta a pranzo e adesso volevo fare il cavolfiore in un altro modo goloso, ho aggiunto del sale con il mio macina sale stupendo e insieme al suo fratellino il macina pepe ho aggiunto anche del pepe, quindi ho messo un uovo, un paio di cucchiai di formaggio grattugiato potete mettere quello che più vi piace, anche il pecorino, poi ahimè un pezzetto di burro ci sta perché così viene bello morbido e ho mescolato fino ad amalgamare bene tutti gli ingredienti. Adesso è arrivato il momento di cominciare a pensare alla pirofila, deve andare in forno, quindi una bella pirofila da forno spalmate con un po' di burro e aggiungete anche del pangrattato che servirà a donare al nostro gâteau ormai lo chiamiamo così, una bella crosticina, mettete metà del preparato di patate e broccoli nella pirofila e poi preparate la farcitura, io ho messo della mortadella, ecco che arriva, e della provola, della scamorza potete ovviamente mettere quello che vi pare, potete anche farlo vegetariano, quindi anche solo un po' di formaggio o degli spinaci e del formaggio, non mangiate come me mentre cucinate, ma avevo molta fame quella sera quindi ho messo la scamorza e ho finito con il restante impasto di patate e broccoli ho schiacciato per bene prima di mettere in forno, ma anche qui, visto che ormai il danno era fatto ho aggiunto dei pezzetti di burro e poi ho messo appunto ancora un po' di pangrattato perché deve essere, ormai l'abbiamo chiamato gâteau, deve essere simile a un vero e proprio gâteau l'ho messo in forno per 30 minuti a 180 gradi in modalità statica, bruciava, era pesantissimo e sì, questo è un balletto di felicità, ho tagliato perché volevo farvelo vedere subito ma era bollente, si è un po' scafacciato tutto, anzi scafazzato come si dice dalle mie parti però guardate che figata, wow, avete visto, c'è un pezzetto che non ce la fa reggersi però era troppo buono, abbiamo fatto una cena super golosa con tutto praticamente pronto mi erano avanzate delle patate, mi erano avanzati dei broccoli e voilà, questo è il mio gâteau broccoli e patate che oggi voglio dedicare a voi per iniziare una settimana nel migliore dei modi buon lunedì, goloso e pieno di serenità a tutti voi io intanto vado a pensare alla prossima ricetta da regalarvi magari la faccio un po' più light, che dite? ma questa poi in fondo non è così pesante, no? sono verdure ciao amici, mangiare è una delle cose più belle del mondo ciao, c'è tempo per la dieta, mi raccomando, buona settimana a tutti ciao ciao